Caro amico ti scrivo, anzi meglio di no, è già perché il rischio è quello di scrivere oggi e avere una risposta fra sei mesi. Tanto ha dovuto aspettare un nostro telespettatore bassanese che si è rivolto a noi per dare voce al suo disappunto. Da quest'anno, dall'inizio del 2021, lei ha cominciato a riscontrare dei problemi con il servizio postale. La posta non le viene recapitata con regolarità in via Beata Giovanna. Che cosa sta succedendo? Niente, io ai 13 gennaio di quest'anno ho fatto la visita specialistica all'ospedale, i risultati non mi arrivavano, perciò ho deciso di ritornare all'ospedale e chiedere, mi hanno dato le copie. E quelle che avevamo spedito, il 21 gennaio che l'ospedale ha spedito, le ho ricevute sei mesi dopo. Questo è ridicolo. Sei mesi per ricevere il referto di una visita. Altra posta importante che è finita chissà dove e che arriverà chissà quando. Adesso sto aspettando da quattro mesi posta importante che mi deve arrivare, negli Stati Uniti. È stata spedita da là quattro volte, è uscita dagli Stati Uniti e qua non ho ancora arrivato niente. Ogni giorno sto aspettando, 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 si arriva ma non arriva. Un problema, un disservizio che sembra nascere dallo smistamento di Padova, anche se le poste centrali di Bassano non sono riuscite ancora a dare una risposta chiara al nostro telespettatore. Sono rivolto alla posta, ho fatto reclamo. Ci dicono qua a Bassano che là non c'è posta mia, allora mi dicono che dipende da Padova. Uno si dà la colpa all'altro. Veramente io come cittadino non lo so da dove è il problema, qualcuno è responsabile di questa roba.